Fatiscono mutilazioni, fatiscono ferite profonde, fatiscono messine. Vi chiedo di riseveriare la vostra conscienza di fronte alla dramma vissuto dai cristiani della Siria che ogni giorno spermittano la morte e sono progressivamente costretti a lasciare tutto a Hobbes. Tutte le loro chiese sono state distrutte dall'inizio della guerra a oggi. Di fatto i cristiani di Ma'alula che hanno chiese e monasteri dal V secolo e vengono attaccati e distrutti. Di chiamare essere tuo compagno nell'alto del progetto per coloro che sono nella impossibilità.